Dottoressa Naimo, il ricordo di Anna Maria Mafrici qui a Condofuri attraverso la cultura, attraverso la poesia che forse è una delle espressioni più belle di quanto l'uomo possa essere sensibile, di quanto l'uomo possa amare e quindi amare anche la cultura. Sì, io credo che in queste situazioni drammatiche perché non c'è una soluzione, non c'è niente che possa guarire una ferita di questo tipo quando una famiglia è colpita da una tragedia di questa entità, però quello che noi possiamo e credo che l'idea della poetessa di fare questa dedica è stato veramente un qualcosa degno di grande sensibilità perché il ricordo proprio di questa ragazza che sarà eterno in questo libro, quindi ricordare attraverso il libro, attraverso poi una serie di poesie le poesie che allietano sempre l'animo, quindi il nome di questa ragazza, il ricordo che si fa strada attraverso la poesia credo che nella tragedia un omaggio migliore di questo veramente non si potesse fare, poi nel suo paese, nel suo ambiente dove lei è vissuta dove è stata ricordata con frasi forti e che ci hanno veramente commosso e ci hanno tutti, come dire, ognuno poi in queste situazioni incomincia a portare su di sé la tragedia, quello che può provare dinanzi a un evento, una vita spezzata in questo modo però non possiamo fare nulla contro questo e credo che uno dei modi molto belli, veramente grandi per ricordarla è stato questo cioè sopravvivere attraverso le poesie, attraverso le poesie dove l'autrice ha dato qualcosa di sé quindi è alto come dedica, è grande il valore della dedica che ha fatto ecco ecco ecco